L'alito puzzava di alcol, gli occhi erano lucidi, sintomi inequivocabili del fatto che quell'uomo aveva bevuto da poco. Il guaio è che non si trattava di un automobilista normale, cosa già grave di per sé per il pericolo che si arreca a se stessi e agli utenti della strada, se ci si pone al volante in condizioni non lucide. Bensì del conducente di uno scuolabus, sanzionato per guida in stato di ebbrezza mentre svolgeva il servizio pubblico di trasporto studenti e di conseguenza sottoposto al ritiro della patente di guida. A fare la scoperta agli agenti della Polizia Stradale di Sondrio, impegnati in questo periodo in servizi mirati finalizzati proprio al controllo dell'assunzione di sostanze alcoliche da parte di autotrasportatori professionali, di camion e pullman. Nei confronti di chi guida per mestiere infatti vige il divieto assoluto di circolare dopo aver bevuto, prestare servizio in condizioni psicofisiche di piena idoneità è fattore imprescindibile per garantire la sicurezza a conducente e trasportati. A bordo dello scuolabus di proprietà di un comune della Media Valtellina c'erano al momento del controllo numerosi studenti. L'autista dipendente dell'amministrazione ha manifestato subito i sintomi tipici della guida in stato di ebbrezza. L'alcoltest ha rivelato che aveva un tasso etilico di 0,75 grammi per litro, violazione che ha comportato la sanzione amministrativa di 725 euro e la decurtazione di 10 punti della patente di cui è stato disposto l'immediato ritiro per la successiva sospensione tra i 4 e gli 8 mesi. Nei controlli della stradale è incappato anche il conducente di un auto articolato fermato nella zona di Morbegno e trovato avere nel sangue un quantitativo di alcol non rilevante per un privato automobilistica, rilevante invece per gli autotrasportatori professionali per i quali non c'è margine di tolleranza fino a 0,50 grammi per litro. Per questo nei suoi confronti è scattata la multa di 168 euro e la decurtazione di 5 punti della patente.